Buonasera, è venerdì 2 agosto, le persone normali stanno per cenare, mentre invece un'analista che fa il suo lavoro seriamente osserva quello che aveva raccontato in anticipo sui mercati finanziari un po' di tempo fa. 13 luglio 2024 avevo segnalato che appunto eravamo arrivati a un massimo assoluto e se avessimo iniziato a scendere al massimo si poteva salire per 9 giorni tirando ancora al massimo dei massimi appunto il tempo di un trimestrale inverso, altrimenti segnalavo che sia qui che su Nasdaq avremmo potuto iniziare a scendere perché il tempo ormai il 13 luglio iniziava a stringere, tempo per un movimento appunto di chiusura di inverso. Che cosa è successo? Beh, abbiamo violato il livello che avevo detto che se fosse rimasto violato con chiusure successive, di candele successive ci avrebbe portato a scendere pesantemente attirandoci verso il punto J ok? Ok? E dal top assoluto per adesso, sottolineo per adesso, su Nasdaq abbiamo perso l'11 e 7 ok? Tanto poco non è quello il discorso, noi abbiamo guadagnato bene dagli short fatti quindi il discorso è tutto un altro. Il discorso è che a parte le molteplici finte perso appunto questo livello qui, prima traforato con una candela, poi hanno cercato di tornarci sopra ma non ce l'hanno fatto, chiusura inferiore, chiusura inferiore, chiusura inferiore, tentativo di ritornarci sopra poi cosa è successo? Quello che stiamo vedendo. Abbiamo avuto un primo gap down di fuga un secondo gap down di fuga e questa sera siamo al terzo e dinamite pericolosa è questa e tra poco ti illustrerò anche perché ok? Prima però facciamo il punto della situazione ok? A livello di ciclo annuale lato indice siamo arrivati esattamente a 192 barre giornaliere questo è il grafico a candele giornaliere su minimo 192 quindi abbiamo un annuale fatto e finito da qua si può rimbalzare e far partire un nuovo annuale abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere tutto questo annuale no in realtà no mancherebbe ancora una discesa una spike da fare ancora e scendere sotto questo minimo appunto proprio quello indicato dal punto J minimo a 18.189.78 e qui abbiamo fatto 18.263.50 quindi per le regole della vecchia analisi ciclica non dell'analisi evoluta che puoi avere tutte le informazioni sul sito analisievoluta.com scegliere di farti mandare la guida di base gratuita piuttosto che capire quali sono i parametri per entrare nel gruppo premium ecco per la per l'evoluta in realtà qui il tempo ce l'abbiamo già il tempo puro ci dice che cosa che partiti da questo minimo abbiamo almeno 24 barre sopra questo minimo abbiamo ne abbiamo oltre 40 sopra questo minimo tutto quest'arco qua per cui uno direbbe beh ok ci stai dando un'ottima notizia c'è stata una discesa fortissima ok però siamo all'interno di un annuale che può essersi chiuso e quindi a parte raccordi quindi le finte a rialzo con ribasso e tutto quello che uno vuole si può rimbalzare è una condizione sufficiente però si può rimbalzare e tornare sui massimi sì è una condizione sufficiente che cosa significa? significa che non basta andare a vedere che cosa è successo lato indice ma che bisogna vedere che cosa ha chiuso lato inverso lato inverso che cosa abbiamo chiuso? con da massimo a minimo a massimo il solito smile la U 246 barre quindi anche qui siamo all'interno sereno di un annuale inverso però non ha chiuso soltanto questo annuale inverso se torniamo indietro questo è un annuale inverso qui c'è un T più 7 inverso cos'è un T più 7 inverso? è un ciclo da 3 a 4 anni di durata a quanto siamo arrivati di questo? 3-4 anni di durata rifacciamo perché non è così semplice quando si allarga troppo la cosa qui siamo arrivati a 637 barre che cosa significa questo? che con 637 giorni di movimento noi abbiamo un facciamo che l'annuale duri 200 giorni per farla più facile 2-1 annuale 4-6 abbiamo 3 annuali contenuti qui dentro avendo 3 annuali contenuti qui dentro noi abbiamo tutto un triennale, quadriennale massimo quinquennale fatto e finito e se chiude un T più 7 inverso cioè chiude andando a salire ok? e ci sono come di consueto due possibilità che parte un raccordo c'è una finta di ribasso e poi con rialzo che dura quanto tempo? anche questo sappiamo quanto dura la finta 3 gradi in meno un semestrale un semestrale quindi 96 giorni minimo di finta di ribasso e poi rialzo oppure chiuso almeno un T più 7 inverso un triennale inverso parte direttamente scendendo pesantemente così se si rimbalzo ma poi di nuovo discesa parte pesantemente con una discesa un altro T più 7 inverso e quando è iniziato a scendere si è portato a casa vediamolo con puntualità da questo massimo a questo minimo si è portato via un 37% dal Nasdaq di discesa ed è andata bene perché ha chiuso anche un biennale perché questo è il secondo biennale ok che proveniva da prima settimanale eh sì settimanale magari quadriennale primo biennale secondo biennale secondo biennale è arrivato appunto a 261 bar più 192 e quindi eh mi basta per chiudere un biennale e persino un potenzialmente quadriennale la discesa soltanto di un mensile solo per il tempo puro eh un mensile ribassista ma neanche nei sogni più bagnati per chiudere un biennale ci serve il doppio di un mensile quindi ci serve un trimestrale per chiudere chiudere un T più 7 inverso un triennale quadriennale ci serve T più 7 meno 3 gradi un semestrale almeno minimo ribassista quindi minimo 96 giorni quindi facciamo un attimo il calcolino che abbiamo fatto prima ok da questo minimo no non abbiamo non abbiamo 96 giorni neanche morti e quindi facciamo una cosa facciamo finta che qui si sia tornati qua sotto ok quindi ricontiamo le barre facciamo finta che il minimo sia finito qui e stiamo ritornando ritorniamo indietro e no non mi bastano neanche questi giorni perché sono solo 77 contro 96 quindi se vuole chiudere un T più 7 lato indice non solo dobbiamo tornare qui sotto ma bisogna andare ancora un po' più in sotto un po' più in giù ok quindi il rischio è che nonostante se si è fatto già comunque una bella discesa perché su Nasdaq e dove siamo scesi di più abbiamo fatto quasi un 12% di discesa non è che siano le trimestrali che contano che non contano che tutto quello che volete la guerra adesso saltano fuori tutte le cose che prima non servivano prima si saliva così guerra di Gaza ok saliti attacco della Russia all'Ucraina e attacco saliti adesso i giornali i telegiornali e gli altri dicono eh ma sai ci sono tensioni in Medio Oriente che senso c'erano tempo prima è iniziata la guerra in Ucraina cioè comunque va bene lo stesso come di consueto sai che su questo canale il primo canale in Italia sia per numero di iscritti 17.000 che per numero di video uno stoico compreso anche TradingView di oltre 7 anni e mezzo di analisi ok delle opinioni ci importa abbastanza poco se ti iscriverai se non sei ancora iscritto a questo canale e cliccherai sulla campanellina saprai sempre quando ci sarà un'analisi fatta tipo quella che ti avvisava e ti diceva esattamente che livello andava violato per iniziare una discesa seria che livello per quanto tempo e tutto il resto questa questa analisi possiamo incorniciarla insieme a che cosa? insieme a quello che avevo raccontato nelle prime due o tre appunto puntate anzi forse seconda e terza puntata di Money Moves anche qui se ti iscrivi non ti perdi ciò che racconto oltre 5.000 persone hanno visto la penultima puntata e stiamo salendo rapidamente anche sull'ultimo oltre 2.800 persone rispetto all'inizio comunque interessante una partenza da zero sul canale di Swissquote in italiano e magari se vai a controllare ci trovi delle cose interessanti perché raccontavo per filo e per segno cosa sarebbe successo se avessimo perso questo livello questo livello qua ok discesa e discesa arrivate adesso però ti do una buona notizia ok dato che sai che probabilmente qui bisognerà controllare e capire che cosa sta succedendo su questo annuale che si è vero minimo 192 giorni ma al massimo arriva a 336 li visualizziamo i 336 perché poi magari ne parleremo anche in altre analisi 336 giorni che cosa significa significa 2 di febbraio del prossimo anno del 2025 ok se da questo massimo parte un ciclo grosso tipo appunto un t più 7 inverso attenzione ok perché c'è tempo per scendere ok a meno che non sia che non vogliono ancora fare determinate altre cose ma come al solito a meno che bla 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 qua la su giù questo non è un canale in cui ti dirò se non scende si sale ok solo chi non comprende appunto l'analisi è voluta perché non l'ha studiata e non ci va molto ok è alla portata di tutti questo genere di studio chi la studia sa perfettamente che le indicazioni sono estremamente precise ok iniziamo a dare indicazioni precise perfetto allora l'inverso parliamo anche l'inverso a parte tutto quello che ti ho fatto vedere prima possibilità di chiusura di un t più 7 inverso qua sopra e da qui o raccordo inverso finta di ribasso con rialzo lo vedremo facilmente se ritorniamo già sopra quest'area è stata una finta piaciuta spaventati tutti ma i volumi ci hanno riportati su sai perfettamente che lo swing cioè il minimo violato che per adesso è stato violato sul Nasdaq ok è un allarme perché venga confermata la partenza di un ciclo di inverso grosso non ci deve essere soltanto uno swing violato ci devono essere volumi ossia se arrivano una marea di candele verdi viene annullato anche l'allarme per la partenza di un ciclo grosso di un annuale inverso di un biennale inverso di un quadriennale inverso ok quindi volumi seconda cosa da controllare dopo lo swing volumi attenzione perché se iniziano sequela di candele verdi bom finta raccordo inverso terza cosa oltre ai volumi sai perfettamente che ci vuole del tempo quanto tempo stiamo passando sotto questo massimo assoluto solo 17 giorni con un bisettimanale dovita soltanto però a un trimestrale di inverso ben poca cosa veramente ben poca cosa non a un annuale inverso ho bisogno almeno di che cosa per far partire un annuale di inverso ho bisogno che si rimanga sotto questo massimo per almeno 48 barre e siamo solo a 17 quindi io inizio ad avvisarti ti do solo un primo avviso di cosa si può rischiare ok poi se i volumi ci riportano su sopra la media mobile rossa stabilmente con chiusure superiori a stabilmente se riusciamo a recuperare questo livello allarme passato serenamente se invece non riusciamo a fare grossa strada non riusciamo a superare definitivamente con un rimbalzo questa media mobile in rosso io farei attenzione perché la discesa potrebbe non essere affatto finita con un 11% questo potrebbe essere un inizio di discesa ok la cosa che rischia di diventare rassicurante può essere il movimento che può iniziare da lunedì prossimo perché perché se finiremo di chiudere questo sesto t-3 ho fatto veloce qui sul 15 minuti ma se è finissimo di chiudere questo sesto t-3 in modo da avere anche questo completato ok c'è la possibilità che anche se facessero una spike ancora di ribasso che cosa succede succede che siamo su un mensile arrivato al durata massima 43 giorni fine cosa succede quando un mensile è arrivato la sua durata massima che si rimbalza per far partire solitamente che cosa un altro mensile e quindi spinta parte un mensile o qualcosa di più parte un mensile spinta rialzo qui in questo caso abbiamo sul grafico giornaliero già tutte le condizioni per la chiusura in 43esima barra di questo mensile ma anche per la chiusura di tiriamo da questo minimo massimo minimo la barra 72 barre cadiamo in un trimestrale chiuso un trimestrale ne puoi iniziare un altro per far partire un trimestrale ci vuole come minimo 12 giorni di rimbalzo sopra un certo minimo e quindi se a partire da lunedì facessimo comunque un rimbalzo cosa che mi aspetto a meno di raccordi tutto quello che avete ma anche se vi fosse un raccordo dovremmo iniziare comunque con un rimbalzo e come sai io disegno i movimenti che mi aspetto anche se rimbalzassimo e riuscissimo a rimanere sopra questo minimo per un 12 giorni bisognerà poi vedere appunto l'impatto con questa media mobile rossa perché con 12 giorni sopra un minimo a un certo punto che cosa succede? se si parte il secondo trimestrale può partire anche soltanto un mensile ad avere un tp4 a 3 tempi ma non stiamo a parlare di quello chiuso un trimestrale parte un nuovo trimestrale se però poi si ritorna sotto il minimo da cui si è partiti si continua a scendere ci si vincola a ribasso e lì la situazione diventerebbe drammatica ok? fase raccordi lato indice che raccordo può esserci tra un trimestrale e l'altro un sottociclo di titolare inferiore un settimanale che è finta di salire e poi si scende ancora semplice da riconoscere ok? semplicissimo durata del settimanale come al solito prendi la tabella del tempo t settimanale dura dai 6 agli 11 giorni fine di una semplicità veramente unica ok? raccordi a parte che ci possono essere tra un trimestrale e l'altro come già detto se invece ci ripartisse una buona salita ok? facciamo attenzione proprio a che cosa succederà se andremo a rimpattare sopra questa media mobile alla media mobile quella in rossa 50 periodi e come ci arriveremo? ci arriveremo con candele grosse lunghe avremo movimento stentato faremo fatica a rimanere sopra al minimo che avremo entro la giornata di lunedì o già stasera ok? faremo fatica a rimanerci sopra se iniziassimo ad avere 12 giorni stentati con tentativo di rialzo se non riuscissimo a superare questa media mobile iniziamo ad avere una forte attenzione a cosa può succedere nel gruppo premium infatti ho già detto che swing abbiamo violato per DAX e MIB e sono dei minimi che era meglio non violare mettiamola così se si voleva continuare a salire era meglio non violare adesso sto aspettando di vedere che cosa mi racconterà appunto DAX perdon NASDAQ perché perché questo inizia a diventare un punto pesante di minimo di non ritorno se dovesse essere violato giusto mi stavo dimenticando questo mettiamo anche un allarme qua lo mettiamo sotto il minimo a 18.189 e 78 189 e 78 ok io ho la violazione pesante la metto così adesso sono stanco è venerdì se già iniziassimo a tornare qua sotto chiudere qua sotto aprire lunedì con una discesa e poi rimbalzo rischiamo ancora di peggiorare la situazione rispetto già al meno 11 che abbiamo fatto ok questo come detto è un avviso tutte le volte che arrivo alla durata minima di un ciclo annuale lo segnalo immediatamente per ricordare guardate che si potrebbe rimbalzare tanto ma se si rimbalza poco poi si torna a scendere anche perché non si chiude soltanto potenzialmente un annuale ma può chiudersi un biennale che richiede di più come tempo o un quadriennale che richiede tanto di più come tempo per questo motivo intendo dare come al solito con questo video una bussola a tutte le persone e farlo per gli altri aiuta anche me a chiarirmi le idee aiuta magari a vedere delle cose che temporaneamente non avevo visto aiuta sotto tutti i punti di vista anche perché oltre al trading gestisco anche il mio patrimonio il mio patrimonio non metto tutto nel trading ok e quindi avendo anche comparto obbligazionario BTP anche a lunga scadenza ok se inizia una vendita massiva sull'azionario devo prepararmi a vendere anche il BTP magari con scadenza lunga perché rischia di venire giù con tutto il resto essendo lunga la scadenza c'è maggiore rischiosità per questo motivo questo video mi serve e può essere utile a tutte le persone che conoscono appunto l'analisi evoluta o hanno intenzione di impararla proprio grazie a tutto quello che faccio vedere su questo canale e che anticipa news illazioni opinioni su perché si sta scendendo grazie a determinate analisi chiave in cui si diceva attenzione che se perdiamo questo livello stabilmente per esempio questo l'avrò fatto se non sbaglio vedere appunto il money moves con sui squatter attenzione perché se non lo recuperiamo rapidamente poi si scende e infatti cosa è successo? si è scesi parecchio e quindi intendono essere utili anche a chi non conosce bene l'analisi evoluta perché è semplice se ti dico se non torniamo se già raggiungiamo questo livello e poi lo perdiamo e iniziamo a scendere la situazione si fa di discesa chiunque lo può capire e questa è la cosa bella cerco di essere il più semplice possibile ecco perché per la prossima settimana mi aspetto comunque un movimento di rialzo di rimbalzo e grazie al rimbalzo che faremo potremo capire se appunto parte soltanto un nuovo ciclo trimestrale e poi fa fatica a salire e si ritorna a scendere piuttosto che tante altre cose l'aspettativa principale è di rimbalzo per la prossima settimana attenzione puoi capire che tipo di rimbalzo perché se sarà del gatto morto questo non sarà il minimo di chiusura né di questo annuale né di tutto quello che viene prima anzi sarà stato solo un punto di rimbalzo verso minimi poi ancora più pesanti da definire mentre invece recuperassimo rapidamente appunto questo livello e poi lo superassimo e continuassimo a costruire candele sopra questo livello ecco allarme temporaneamente rientrato ok? se questa analisi ti è piaciuta metti un bel like condividila con gli amici e iscriviti al canale se non è ancora fatto a te come al solito il potere di scelta mi accontento di fare trading come già faccio oppure imparo rapidamente con un sunto che cos'è questa analisi evoluta e come mai si riesce a anticipare a spiegare come ne anticipo possono scendere i mercati se non ti basta quello sai che mi trovi nel gruppo premium ancora buona serata e buon weekend e buon weekend a spiegare a spiegare a spiegare Grazie a tutti.